A Di Maro, il giorno di Mirko Valdifiori, il centrocampista si presenta alla Sampa e non nasconde l'emozione per essere approdato in un grande club. Il giocatore confessa che la società l'ha cercato insistentemente già prima dell'arrivo di Sarri. L'ex Empoli si giochera la maglia con Giorginio ed è compito del neoacquisto descrivere Mr. Sarri, lui che lo conosce e con il quale affronterà la nuova avventura in azzurro. Per me è una grande occasione, dopo tanti anni di gavetta, passato dalla C, dalla B e arrivare in A con l'Empoli e poi adesso questa grande occasione qui a Napoli. Ringrazio appunto il presidente che so che mi seguiva anche già prima che arrivasse Sarri e quindi per me questo è un motivo d'orgoglio e ringrazio che abbia deciso di puntare su di me. Quando siamo venuti qua, appunto, che c'è stato il 2-2 di De Guzman, mi pare che mi è rimasto in pressa appunto il boato della curva. Quindi quest'anno sapere che quei tifosi lì sono i miei tifosi mi rende veramente felice. Come ho detto prima, non vedo l'ora appunto di scendere in campo. Sì, Sarri è sicuramente maniacale nel senso nel curare il particolare perché quando hai a che fare magari una realtà come Empoli, quando devi salvarti, quando vai a affrontare grandi squadre, se non curi il particolare poi magari perdi le partite e quindi noi l'anno scorso appunto siamo arrivati alla salvezza curando sempre sia nella fase difensiva sia nella fase offensiva i particolari e questo appunto ci ha portato a disputare una grande annata.